Anche a scuola i buoni propositi di inizio anno non mancano, a cominciare da quello che sarà il rientro degli studenti delle superiori nelle proprie classi, previsto secondo la circolare del Viminale che recepisce l'ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, per giovedì 7 gennaio. Sempre che tutto vada per il verso giusto ed il numero dei contagi, ancora una volta, non torni a salire. Ad oggi io non ho nulla di scritto che mi dia informazioni contrarie rispetto a quelle ufficiali. E quindi allo stato attuale si riprende con la percentuale del 50% e con l'ingresso unico il giorno 7. Poi sappiamo che certe decisioni possono arrivare anche all'ultimo momento. Se arriveranno decisioni diverse le metteremo ovviamente in pratica. Perché la provincia dice di no agli ingressi scaglionati con il resto d'Italia? Gli ingressi scaglionati in un territorio come il nostro, che ha una conformazione geografica molto particolare, rischiano di essere più dannosi che utili. Rischiamo di avere ragazzi che arrivano presto e poi devono aspettare un'ora o due ore per entrare a scuola o viceversa abbiamo ragazzi che escono tardi, devono aspettare magari un'ora o di più per prendere l'autobus che li riporta a casa e magari arrivano a casa alle 7 di sera. Una soluzione, quella dell'ingresso unico, nata dopo consultazioni su fattibilità e calcolo del rischio effettuate di concerto tra Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, Prefettura e Società di Gestione dei Trasporti su gomma e ferroviari. E intanto ha preso avvio quest'oggi su piattaforma online la procedura di iscrizione alle scuole medie primarie e secondarie per l'anno scolastico 2021-2022. È una fase che durerà una ventina di giorni. L'offerta formativa del nostro territorio è completa sia per quanto riguarda le scuole statali ma sia per quanto riguarda anche la formazione professionale erogata dalla provincia piuttosto che da ENAIP e quindi non abbiamo nulla da invidiare ad altre realtà. Io spero che indirizzi confermati continuino ad andare avanti, indirizzi che sono partiti l'anno scorso come liceo musicale o come l'operatore turistico qui al Desimoni, vadano avanti perché sono due elementi importanti e così che la nostra scuola possa godere sempre di ottima salute. E intanto continua a prendere forma la costituzione del polo liceale unico per l'intero capoluogo. Che punto siamo con questo progetto che dovrebbe entrare in essere quest'anno? Ora l'ufficio sta provvedendo a quelli che sono gli adempimenti, chiamiamoli, amministrativi burocratici. È un lavoro abbastanza lungo, abbastanza complesso, che in una forma diversa abbiamo già sperimentato quando abbiamo dimensionato il Besta con il convitto, ma che stiamo portando avanti con la massima serenità.